Il 2024 inizia nel migliore dei modi per i giovani atleti della società atletica Avis Sansepolcro che hanno partecipato fin dall'inizio del nuovo anno ad Ancona al meeting nazionale su pista indoor poi a Carrara per i campionati regionali individuali assoluti e giovanili su pista indoor e ad Arezzo per i campionati provinciali individuali di corsa campestre settore promozionale Ad Arezzo si sono disputati i campionati provinciali individuali di corsa campestre i ragazzi della Avis di Sansepolcro hanno partecipato con 25 atleti e tutti hanno dato prova di massimo impegno i prossimi appuntamenti ai quali parteciperanno i giovani atleti di Sansepolcro e dell'intera Valtiberina Toscana prevedono domenica 4 febbraio a Lucca i campionati toscani settore assoluto e promozionale e poi l'11 febbraio a Campi Bisenzio per la seconda prova del campionato toscano di società settore assoluto e giovanile Grazie 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 Grazie